Fabiana Datone è pronta? Prego, è qui. Il ministro delle politiche giovanili, Fabiana Datone, un applauso per il ministro, e per Carmelo e per Marianna, staffetta. Ciao, buonasera. Hanno detto basta parole, e quindi che facciamo stasera? Hanno ragione, ma infatti bisogna coinvolgerle in maniera più attiva, secondo me, non solo i giovani, io credo che sia un tema generalizzato, tutta la cittadinanza dovrebbe essere coinvolta in maniera più attiva nella determinazione delle politiche, perché penso seriamente che quando si parta dal basso poi tutto venga accettato in maniera differente, il coinvolgimento, io sono una di quelle persone che crede che la democrazia diretta sia veramente il futuro in un paese nel quale c'è una grande disaffezione verso la politica, quindi secondo me non riguarda solo i giovani, ma dovrebbe riguardare in maniera più estesa tutti, ma è chiaro che le rivoluzioni partono sempre dai ragazzi. Bene, quindi ringraziamo Carmelo Treina, Marianna Fanzarino, grazie ragazzi. Grazie per la vostra battaglia e a questo punto però, Ministro, sarebbe stato troppo facile fare un'intervista con me o con Ernesto o con Alessandra, che abbiamo una certa età, invece noi abbiamo scelto per te un intervistatore particolare, che è uno dei più giovani speaker radiofonici italiani, condusce un programma su M2O, ha 21 anni, è bravo forte, non sappiamo quello che ti chiederà. E questo è il bello della serata, Filippo Grondona, prego. Buonasera a tutti, grazie, che emozione, le lascio, le lascio, abbiamo detto che ci diamo del tu, Ministra, quindi che bello essere qui. Buonasera, buonasera a tutti i ragazzi che ci stanno guardando, voi che siete qui, so quello che state pensando, chi è che ha il coraggio di intervistare un Ministro con quella camicia? Tu, vorrebbe. Siamo qui, siamo qui. No, ci sono tantissime cose che voglio chiederti, intanto preferisci Ministro o Ministra? Io lo chiedo per... Per me in realtà è indifferente, per cui faccio sempre scegliere in base alla sensibilità, per me l'importante è poi la pratica di quello che si fa. Ok, te lo ricordi il primo giorno in cui sei stata Ministra? Perché non so voi ragazzi, ma io quando penso al primo giorno di un Ministro, mi immagino questa persona, in questo caso tu, che arrivi in un ufficio molto bello, e con una persona poi che arriva e ti porta una pila infinita di fogli con tutti i problemi che poi vanno affrontati. È più o meno così o è il mio racconto troppo fantasioso? No, no, in parte realistico. In realtà a me è capitato un po' l'opposto. Cioè sono arrivata chiaramente con un po' di ansia, perché comunque ricoprire un ruolo così importante a un'età relativamente giovane, almeno giovane in questo Paese, diciamo, per fare il Ministro, mi ha messo una certa pressione. Sono arrivata in un ufficio effettivamente molto bello, perché il Palazzo Vidoni di funzione pubblica, però ho trovato una scrivania che era praticamente vuota di fascicoli e una relazione che mi era stata consegnata da chi mi ha preceduto, con un riassunto di tutta l'attività. Però è chiaro che da quella relazione si riusciva a percepire la montagna di lavoro che c'era da fare dietro, quindi la pressione è stata notevole. Oggi noi giovani tante volte non riusciamo a identificarci nella politica, chiediamo delle cose alla politica. Vorrei sapere, quando tu avevi la mia età, la nostra età avevi vent'anni, quella era una cosa su cui desideravi che magari la politica si concentrasse di più? Io l'ho detto già prima in realtà, è proprio la democrazia diretta. Secondo me il coinvolgimento attivo delle persone rappresenta un po', anche se rappresentato il passato a livello storico, deve rappresentare il futuro, perché il senso di scollamento secondo me non si riuscirà mai a superare nel momento in cui le persone non varano mai coinvolte, se non una volta ogni tot anni per esprimere un voto, neanche una preferenza, con una X e poi lasciando perdere completamente ciò che accade. Per cui è questo quello che più mi sono sempre aspettata dalla classe politica. Tu quando andavi a scuola, quando avevi vent'anni, oltre ovviamente allo studio, so che sei laureata in giurisprudenza, giusto? Che passione avevi? Che hobby avevi? Tipo io già quando andavo a scuola, io mi sono avvicinato alla radio che avevo 13 anni per gioco, ed era quello che faccio nel mio tempo libero. Tu cosa facevi? Musica. Io sono appassionata di musica, sì, tantissimo. Ma suonavi anche, cantavi anche o solo da spettatrice? No, ho fatto un po' entrambe le cose, ho provato a imparare, perché poi avrei imparato... Se vogliamo cantare qualcosa... No, a suonare la batteria con scarsi risultati, possiamo dircelo, perché non era proprio, diciamo, il mio futuro, però ho sempre seguito i concerti, in particolare di musica, diciamo, rock pesante. A me piace il metal, l'ho detto credo in più occasioni, suscitando parecchie reazioni strane, non vedo il perché. È un genere musicale che a me piace, mi ha sempre ispirato molto, per cui ho seguito una marea di concerti anche all'estero di musica. Qual è stato il primo concerto, te lo ricordi? Certo, i Satanic Surfers alle un cavallo a Milano, 15 anni. Faccio finta di aver capito. No, era una band punk rock svedese che però secondo me ha sempre meritato tantissimo. Se posso dirti una chicca, le ho rivisti due anni fa e sono andata anche fieramente a dirgli vi ho visto vent'anni fa ma non mi avete rilasciato l'autografo e quindi glielo ho chiesto ad istante. E te l'hanno fatto? Me l'hanno fatto, stavolta ce l'ho fatta, sì. Forse il mio inglese è migliorato oppure la mia faccia di tolla è migliore. Comunque quando magari, soprattutto quando magari negli anni del liceo uno si, non so, magari va in giro con i suoi amici, ma tu eri sempre quella del gruppo che aveva come cantanti preferiti quelli sconosciuti. Esatto. Tipo c'era quello che diceva, non lo so, Vasco Rossi, tu dicevi cose... No, perché avevo un gruppo di amici che era tutto come me, quindi... Tutti che ascoltavamo musica di nicchia, per cui eravamo una grande nicchia. Senti Fabiana, vorrei tornare un attimo serio. Poco fa, non a caso, ti ho chiesto delle passioni. Perché io credo che a tutti noi giovani, almeno una volta nella vita, durante il periodo scolastico, quando abbiamo provato a portare avanti la nostra passione, è stata detta una cosa. Lascia stare, perché devi pensare allo studio. Cioè talvolta sembra quasi che la scuola non capisca che determinate passioni poi sono fondamentali, perché non voglio essere riferito, magari sì, però vi porto un esempio personale. Io quando andavo alle medie avevo appena iniziato a fare questa cosa della radio, che poi è diventata il mio lavoro, è quello che oggi mi motiva, mi fa crescere, eccetera. E più di un professore ai tempi mi ha detto, ma basta con quelle cavolate, no? Pensa a quello che è veramente importante. Io magari sono stato abbastanza forte, l'ho ignorato e ho continuato a portare avanti le mie passioni, però non tutti hanno la forza di andare avanti. Magari tanti mollano. Cosa risponde lei a questo? Cosa rispondi tu, scusami, a questa cosa? Cioè come bisogna comportarsi? Bisogna tirare dritto verso le proprie passioni. Secondo me chi dà messaggi di questo tipo sbaglia. Non è una perdita di tempo concentrarsi sulle proprie passioni, chiaramente non avendo tutti l'ottica e il sogno di riuscire a fare, adesso non so se sai che ho aperto un canale Twitch, quindi intervisto anche... Adesso voglio parlare. Ok, i gamer, i pro player, professionisti. È chiaro che anche con loro affrontiamo spesso queste tematiche. Negli ambiti scolastici viene spesso detto, vabbè ma lascia perdere i videogame, non è cosa. Io invece credo che la scuola dovrebbe fare molta più attenzione a spingere i ragazzi a capire qual è la propria inclinazione e ad investire sull'inclinazione naturale che uno ha e anche sulle proprie passioni. Ora io nel mondo del metal non sono riuscita a fare un granché, però posso dire, visto che ci sono tanti ragazzi giovani in platea, anche a me è stato detto, in un'età particolarmente delicata, che con ogni probabilità il liceo non sarebbe stata la scelta giusta per il mio tipo di capacità e che giurisprudenza probabilmente non l'avrei mai finita. Però evidentemente... Sono andate diversamente le cose. Evidentemente sì. Sostanzialmente fregarsene quando un professore ti dice no, quella cosa lì non coltivarla. Ma non lo dico in maniera diseducativa, perché c'è da sottovalutare ciò che dicono. E che credo che ci sia una scarsa capacità di investire sulle capacità dei ragazzi. E oggi io vedo tanti ragazzi che sono disaffezionati ad investire su se stessi. Io sento tanto sconforto, tanti che mi dicono, vabbè ma che cosa serve formarsi, che cosa serve inseguire i propri sogni, tanto non si riesce a fare niente. Ma così non è. E quindi io più che dire a voi fregatevene di che cosa dicono gli insegnanti, dico alla classe degli insegnanti di fare più attenzione a ciò che diciamo ai ragazzi, perché poi questo ha anche degli effetti importanti. Cioè l'ho ricordato io, quello che è stato detto a me alle medio, 37 anni faccio il Ministro, quindi figuriamoci. Hanno degli effetti che sono importanti sui ragazzi. Quindi spingerli di più ad investire anche in maniera forte su ciò che sono le proprie passioni, sempre facendo attenzione, chiaramente a non dimenticarsi quelli che sono i doveri. Però dall'altro lato, perché non... Se tu fai bene la scuola, fai quello che è il tuo dovere, perché non puoi concentrarti su altre cose contemporaneamente? Anche perché sviluppano altri tipi di competenze. Diciamo sempre che nel mondo del lavoro le competenze trasversali, le soft skills, sono molto ricercate, però poi non insegniamo ai ragazzi ad individuarle in se stessi. È da lì che bisogna partire. Hai citato Twitch, hai un canale Twitch. Qualcuno segue il canale Twitch della Ministra? Mano male, qualcuno ha di meglio da fare. E qua dobbiamo però fare un po' di sponsorizzazioni, perché ragazzi andate a iscrivervi subito al canale della Ministra. E fai un sacco di diretto visto, un sacco di interviste. Voglio sapere se l'idea è stata tua o c'è qualcuno che ti ha detto guarda che comunque dovresti provare a fare questa cosa e soprattutto non ci credo che nessuno non ti ha dato conto. Ci sarà stato qualche hater che ha detto ma un ministro non può fare Twitch. Come hai reagito? Se è successo? Allora, l'idea, sono molto onesta, non è nata da me. Io ho un gruppo di persone, di quattro ragazzi, che mi danno una mano con i canali comunicativi e uno di questi appassionati di videogame mi ha detto ma guarda che c'è un canale bellissimo, c'è una platea incredibile, dovresti assolutamente provare lì ad intervistare i ragazzi perché è lì che sta un po' il futuro. E gli hater, sai che hanno trovato meno in quel canale che in altri? C'è magari un po' più un giudizio da parte degli adulti che chiedono ma perché un ministro va su un canale del genere a parlare con i ragazzi? Io invece credo che sia proprio quello il canale del ministro per le politiche giovanili. Un po' nell'ottica di... Io ho sentito, sono qua dall'inizio, quindi ho sentito un po' tutti gli interventi. C'è una grande richiesta da parte di tutti, ma beh, chiaro, tutta una serie di passi in avanti da parte dell'Italia sul fronte dei diritti, sul fronte del potenziamento in termini economici. Ma c'è anche una grande richiesta di ascolto. Dove lo si fa se non nella comfort zone dei ragazzi? Se la comfort zone è quella o è il canale TikTok o è il canale di Instagram solo storio scoperto, si va prevalentemente lì per poi affrontare temi seri perché andare su un canale di questo tipo non significa che poi non si vogliono affrontare tematiche serie. Certo. Lì abbiamo affrontato, per esempio, tutte le nuove professioni. Quanto sia importante parlare oggi di che cosa sia un content creator. Certo. E ho visto che ne intervisti quasi con cadenza quotidiana. No, quotidiana e magari avere tutto questo tempo settimanale, sì. Però tanti contenuti, tanti contenuti, no? Sì, sì, sì. Ne ho, ne ho. E ti dirò che un piccolo passo è stato fatto perché magari da fuori non si è percepito ma il Parlamento italiano effettivamente in commissione lavoro ha iniziato un'indagine conoscitiva proprio sulla professione del content creator perché si è partito a fare questa serie di interviste. È vero che magari ci si metterà un anno a chiudere questo tipo di lavoro ma intanto si è iniziato a farlo cosa che prima era completamente pensabile. Anche perché il content creator è solo uno dei tanti lavori che è stato portato in auge dalla nostra generazione che anche a livello di burocrazia, no? Penso alla fiscalità così è sempre stato ignorato quindi ben venga. Allora, ministra... Il tema dei temi, quello dei... Allora, ragazzi, una cosa importante mi raccomando prima di andare via iscrivetevi al canale Twitch No, ma a me si devo sentire i libri. Allora, io vorrei fare una cosa prima di chiudere questa chiacchierata. Hai detto che sei molto appassionata di musica? Yes! Sei andata a un sacco di concerti credo che qua tanti cioè siamo quasi tutti appassionati di musica spero tutti ne abbiamo sentito degli artisti pazzeschi Non so quanti del mio genere musicale Eh, quello infatti... Chi sono gli appassionati di metal in sala? Grande! Lui, eroe Grazie che ce n'è qualcuno Qual è il tuo gruppo preferito? Urlalo! Ah, Metallica! Metallica, grande! Se vuoi, io me ne vado puoi fare una cacchierata con il ministro No, per salutarci vorrei fare una cosa mi sono segnato i nomi di alcuni artisti musicali italiani che conosciamo tutti cioè non me ne volere sono... Sì, ora spero di conoscerli anch'io I più famosi Ok, vai E per ognuno di questi artisti musicali dovrai dirmi a quale personaggio della politica italiana corrispondono Ok, per mettermi poco in difficoltà Sei pronta? E ovviamente invito anche voi a preparare qualche artista al volo così alla fine se avete un artista facciamo anche il vostro se non è in questa lista Pronta? Eh, proviamo Orietta Berti Mamma mia! Oh mamma mia Laurietta, la salutiamo Ho quanto tempo ho per... È poco, è abbastanza veloce Siamo anche già in ritardo Eh, lo so, però mi fai delle domande Mamma mia, Laurietta Berti Oddio, non lo so, posso switchare o passare alla seconda? Sì Oddio, che domanda che mi fai E poi abbiamo l'ultima che è una vera kick Allora switch, passo all'ultima? Mamma mia, vera... Eh, ora, non mi viene in mente Chiudiamo in bellezza con chi è il personaggio della politica italiana che corrisponde a Sfera e Basta Vabbè, tu gli vuoi male alla ministra, diciamo la verità Gli vuoi male alla ministra Sfera e Basta, finito Grazie di essere stata con noi No, grazie, mi schiaccio La musica è così, diciamo Vabbè, però che... Però è stata una chiacchierata informale Come ci eravamo promessi Grazie ministro La ministra Fabiana Radone Grazie, grazie a voi Grazie, grazie